soltanto tre chiodi e ciò che occorre per riuscire ad ottenere delle fioriture davvero incredibili io in questo video vi spiegherò ma soprattutto vi mostrerò tutto quello che occorre fare e le varie fasi per ottenere delle fioriture davvero incredibili quindi io vi consiglio di seguirlo e provare a rifare ciò che vi mostrerò perché vi assicuro che se lo farete alla fine sarete contenti di averlo fatto primo trucco la prima cosa che occorrerà fare sarà quindi quella di procurarsi una bottiglia e riempirla con dell'acqua anche quella del rubiretto andrà benissimo purché non ci sia troppo calcare perché sennò questo potrebbe creare dei danni alle piantine dopodiché prendere i chiudini ed andarli ad inserire all'interno in questa maniera facendoli semplicemente cadere all'interno ne passeranno anche soltanto tre però se vorrete più effetto ne potrete mettere anche qualcuno in più dopodiché chiudere il tutto e aspettare circa una settimana e riprendendo il tutto dopo soltanto due settimane questo è ciò che si è ottenuto l'acqua si è trasformata in un qualcosa di non più limpido e nel quale praticamente i chiudi hanno fatto rilasciare tutto ciò che è la ruggine l'ossido di ferro quindi arrivati a questo punto si potrà finalmente utilizzarlo mettendolo nel pane radicale della nostra piantina arricchendo così lo stesso di ferro e una volta pronto questo lo si potrà applicare al pane radicale della piantina che vorremmo trattare in questo caso la natalina semplicemente bagnandola come se la stessimo annaffiando quindi andare nel pane radicale e bagnare questa è un'operazione davvero semplice e veloce però prima di farla assicuratevi che il pane radicale quindi il terreno sia completamente asciutto basterà toccarlo con un dito in modo da evitare che bagnandolo troppo le radici marciscano quindi una volta verificato questo semplicemente bagnare come come dicevo prima se fosse una semplicissima annaffiatura primi risultati trascorso all'incirca un mese riprendendo il tutto si può notare a quanto pare che la soluzione i suoi effetti benefici sulla pianta li abbia avuti infatti non solo è più rimpolpate di un colore verde acceso più intenso ma andando a guardare all'apice dei singoli rametti si può notare che ognuno di loro ha dei piccoli boccioli considerate che il fatto che abbia creato i boccioli non vuole dire automaticamente che poi la fioritura andrà a buon fine perché se non ha abbastanza energia purtroppo alcuni dei boccioli durante la fioritura o comunque la fase di crescita dei boccioli prima della fioritura li potrebbe fare cadere col passare del tempo all'incirca altre due settimane la pianta non solo non ha fatto cadere i piccoli boccioli ma li sta facendo crescere e qualcuno ha già iniziato a sbocciare e direi che l'effetto visivo già oggi è davvero incredibilmente bello quindi anche in questo caso andandoli a guardare da vicino si può notare che i fiori sono assolutamente perfetti e belli arrivati al quarantesimo giorno questo è il risultato che si è ottenuto una fioritura davvero incredibile e abbondante vi assicuro che ottenere questo è davvero difficile proprio perché in genere se la pianta non è forte non è nutrita prima di iniziare la fioritura anche se i bocciolini piccoli li crea non è detto che poi il risultato finale sia questo in questo caso utilizzando la soluzione il risultato è stato davvero fenomenale questa è un'operazione che io consiglio di eseguire al massimo ogni 3-4 settimane e quando la pianta non è in una fase di riposo vegetativo quindi tra metà della primavera sino a metà dell'autunno dopodiché quando dormirà non avrà bisogno di crescere e quindi nemmeno di nutrimenti altro consiglio è di utilizzare questo soltanto per piante ornamentali e non alimentari trocco numero 4 questa è una pianta fotoperiodica e brevi di urna ciò significa che se vorrete farla indurre a fiorire c'è un piccolo trucco ovvero quello di fare alternare 12 ore di piena luce a 12 ore di pieno buio quindi di giorno mettetela in un posto dove ne prenda tanta di luce e di notte mettetela o in una stanzina oppure in uno sgabuzzino dove abbassando o chiudendo le porte di luce non ne prenda e nel giro di circa un mese questa sarà indotta a creare i primi boccioli altro trucco davvero molto valido è quello di creare uno sbalzo di temperatura di almeno 5 gradi tra il giorno e la notte quindi di giorno mettetela in un punto abbastanza caldo della casa e invece di notte mettetela in un punto dove comunque ci sia freddo mi raccomando però non troppo freddo non scendete sotto i 15 gradi perché se no rischierete di danneggiare la pianta e l'eventuale fioritura terra di banana nell'ipotesi che a voi la soluzione del ferro non piaccia o più semplicemente vogliate integrare la stessa con un altro concime esiste anche la possibilità di ottenere un concime davvero fenomenale dalle bucce delle banane quindi la prossima volta che ne mangerete qualcuna la buccia non la buttate fatela essiccare e una volta che questa sarà completamente secca la si potrà tritare e si otterrà un composto simile alla terra io la chiamo terra di banana proprio perché potrà essere utilizzata sia come concime come in questo caso o addirittura come base per seminare dei piccoli semi quindi una volta ottenuta questa si potrà applicare alla pianta che vorrete trattare semplicemente cospargendo casomai con un cucchiaino il prodotto sul pane radicale dopodiché bagnare abbondantemente il tutto l'acqua andando giù per capillarità tenderà a portare con sé tutti gli elementi nutritivi che sono presenti all'interno del concime arricchendo il terreno quindi il pane radicale con fosforo azoto e potassio che sono davvero fenomenali per far fiorire una piccola pianta e con questo il video si conclude spero che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo di utile né di divertente se vi è piaciuto però mi raccomando lasciate un commento mettete un mi piace ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete un'occhiata dategliela perché sono quasi certo che tra tutti i video che ho caricato almeno uno che possa piacervi lo potreste trovare detto questo un saluto e al prossimo video